e si parte siamo a 10 metri dovrei tornare indietro e sarà te l'ho detto sarà un paio di chilometri così no no il peggio con anche il cane attaccato ai balotti come sono simpatici mi è andato un botta il computerino c'è qualcosa che non va nella pendenza facciamo passare vai vai c'è non fermarti però maledetti maledetti i motori di merda sì ma il computerino qui non sa neanche dove siamo ma l'omino qui sta sparando la merda dei ciclisti oh ma oh 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 no ma non può essere così poco secondo te così a naso quant'è? 18 vaffanculo ci hai preso eh? ma mi sembra di più mamma mia sì comunque torno al 20 ora capisci perché è famosa questa salita? 2 ora si guarda l'agilità con la quale Giacomo sale il cartello lì? non sa neanche cos'è guarda 30% sto paio di palle c'è qualcosa conficcato nella schiena ora è l'ultimo dei problemi mamma mia anche ora c'è un po di relax qua su sono pronti con la flebo salve mamma mia si ma come sono due chilometri? ciao neanche io fatevi sempre ridere quelli c'hanno lo schioppo dietro oh 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 Merry Christmas guarda il card lei là perché sembrava tipo fluttuare da te è la via dove passeremo noi mamma mia no ma non è vero noi in realtà andiamo giù lì è una casa privata mamma mia ok Jeremy niente in confronto a Comano niente comano già per arrivare fai un 5 chilometri di salita diciamo normale no? che però comunque la fai e su sono 3 chilometri non mi ricordo se è all'11 o 12% di media fatto con la bicicletta da corsa cazzo ora mi caga tosto da te siamo arrivati in cima devastati come qui più o meno e non sono strappiti è quello che non è piglia la larga tipo va in casa di lui lì cioè qui nell'interno sarà 35 qualcuno è in affanno io mamma mia che mal di gambe sì è vero è vero dobbiamo un po' recuperare abbiamo quasi fatto quasi 1100 di vam con la frontal bike poi boh arrivare in cima e accorgersi di non aver acceso la telecamera vabbè la facciamo in discesa con la telecamera dietro vai che continua al 20 qui il 20 è un po' una regola ci mettiamo un minuto a fare 100 metri giacomino ora qui passa e sorpassa guarda come sgomma hai visto? no la ruota interna vai passa passa ma che fermi no eh non sono più tuo amico andiamo sotto i 6 km orari guarda mi staccherai la telecamera solo per guardarti in faccia girati verso di me mamma mia e cosa è che? dopo abbiamo anche il pedalò qui per venire giù cos'è? cos'è? satisfaction forse vi spiando forse vi spiando mamma mia come ti sembra? c'è un po' di mal di gambe ma dici che sarà la salita cazzo ma ti devi riprendere dai che hai discesa mamma mia mamma mia cioè penso che non ci sia cioè non so se c'è di nuovo qualche pezzo ma dov'è essere? mamma mia eh davvero eh davvero dai che è finita questo è perché hai visto prima che allungavo la mano come per prenderlo no ma devi star davanti però dai su come si impenna pinge qui ma che è più di prima eh ma mi sa di sì sa più del 20 no ma di più no dai una rima con via dello strinato ride tutto il vicinato manco con un carro armato no 22 23 23 abbondante allora rientriamo facciamo passare John Bon Jovi qui ok Niente, nell'ultimo tornante abbiamo perso Giacomino che si è fatto fermare da un 4x4 Un 4x4 che curva come il camion della cava La salita insiste al 20% Giacomino E' tutta cuscina No ma insomma sono andato su bene sotto soglia potrei rifare anche adesso via La birra di ieri sera non ha influito più di tanto Guarda come parlo sereno Guarda sembra di andare in paradiso non c'è più niente Mamma mia Mamma mia Ehi vedo casa mia da qua Oddio Non era per dire Ma che ti aspetto Mamma mia Ci sei? No Era quello che volevo sentire Mamma mia Che mal di culo Ma qui siamo un onestissimo onestissimo 11% E fra poco non sarà più onesto Questo è il provino Marina Pride Se ti rigiri Sei fuori Puoi solo lamentarti con il presidente Oh ma qui c'è proprio la fissa del 20% Oh ma qui c'è proprio la fissa del 20% 18% 18% Mamma mia Ah diciamo che non me la ricordavo tanto Stavo Vendono una casa Cosa ne dici? E mentre vedi Hai un po' un giro di 180 km Quei sai Sì Mamma mia Ma una volta le strade Con cosa cazzo le facevano? Mamma mia Quando si dice il brivido della velocità Ehi 17, 18, quasi 1000 di vamm. Temperatura dell'utero a 24 gradi, siamo prossimi al parto. Non accenna a calare, mi stanno sudando i polpastrelli. Siamo sempre sul minuto ogni 100 metri. E' un anno in meno di vita. Dai un cenno di vita? No. Siamo quasi a 20 minuti. Due chilometri. Vai che cala, vai che cala. Ora potrei infiascare l'acido lattico. E stai buono. Guarda lì. Dopo vi faccio vedere anche voi ragazzi. Vai 10%, ci va di lusso. Oh ma. Fai finta di niente. Un'è nulla. Spiana. La ritaglia col 20%. 200. Mamma mia, forse è meglio aspettare. non penso. Però rilassati un pochino, perché vedo una spicconata qui. La vedete anche voi? Eh? La vedi? No. Mamma mia. Magica mountain bike. Marina bike verso l'infinito ed oltre. to' schiumando. Mamma mia. Sì 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 Grazie a tutti